Il presidente iraniano Hassan Rouhani può contare su un Parlamento non ostile alla sua politica di apertura e all'accordo sul nucleare. Le elezioni di venerdì hanno consegnato al Paese un Parlamento senza padroni, nel quale è comunque forte l'avanzata dai moderati. Sui 296 del Majlis, 103 sono andati ai conservatori, che hanno anche perso alcune delle loro figure di maggior spicco, mentre il 95 vanno ai moderati e 14 candidati indipendenti dall'orientamento ancora non chiaro. Per i restanti 68 seggi si va al ballottaggio a fine aprile. Elias Hasratin, neo eletto deputato riformista, commenta Anche se nel campo riformista i volti più noti in buona parte non hanno potuto candidarsi o sono stati squalificati successivamente, la lista ha dimostrato una certa capacità di adattamento, proponendo volti nuovi che hanno comunque ottenuto la fiducia dell'elettorato, perché la popolazione aveva un buon ricordo dell'era riformista del presidente Katami in particolare. In Parlamento sono entrate anche 14 donne, un record e potrebbero aggiungersene altre 5 dopo i ballottaggi. Un altro elemento simbolicamente molto importante per i riformisti è il loro successo nella capitale, dove hanno conquistato tutti i seggi a disposizione, 30, e anche per l'Assemblea degli Esperti, che dovrà eleggere la prossima guida suprema in caso di decesso o dimissioni della Yatollah Kamenei, 15 seggi dalla capitale su 16 sono andati ai riformisti. Possiamo dire che il risultato di queste elezioni rappresenta una vittoria per i riformisti e moderati. Il nuovo Parlamento, oltre a sostenere la politica del governo di Rouhani, potrà avviare le riforme economiche e politiche, ampliare l'apertura verso l'Occidente e attirare maggiori investimenti stranieri.